All'indomani dell'annuncio del governatore Di Luca, dove comunicava la decisione della chiusura delle scuole in Campania per emergenza coronavirus, una decisione peraltro precisata dallo stesso governatore, indispensabile per una corretta disinfestazione delle scuole in Campania ma anche delle università, che vedeva interessato il periodo che andava da giovedì 27 e 28 febbraio, incluso sabato 29, la riapertura era prevista per lunedì 2 marzo. I ragazzi dell'Istituto Galliani, situato in via Don Bosco qui a Napoli, ecco nelle immagini lo spettacolo che si sono ritrovati.